Hai finalmente superato lo status di principiante ed intermedio, ti sei allenato per diversi mesi e anni con multarticolari pesanti e poi sei poi passato ad aggiungere anche lavoro di isolamento extra per bicipiti e tricipiti e ora ti ritrovi già una ottima o comunque una buona dose di massa muscolare e vuoi massimizzare le braccia. Che cosa devi fare? Se già per diversi mesi hai provato a crescere e ci sei riuscito magari anche allenando bicipiti e tricipiti in isolamento oltre a multarticolari due volte a settimana magari o addirittura ti sei spinto fino a tre volte a settimana e però a un certo punto hai stallato non ti rimane che una singola alternativa ovvero la specializzazione per le braccia. Che cosa significa questo? Dovrai probabilmente mettere in mantenimento molti altri muscoli, praticamente tutti, per poterti permettere di fare abbastanza volume totale di lavoro dedicato interamente a bicipiti e tricipiti. Logicamente se vorrai ulteriormente alzare il volume totale di lavoro a carico di questi muscoli non potrai passare a 25, 30 o 35 serie allenanti per il singolo muscolo e fare questo contemporaneamente su tutti i muscoli. Di conseguenza dovrai mettere in mantenimento muscoli come ad esempio quelli delle gambe, come i pettorali, come i dorsali. Un esempio pratico, se prima magari dedicavi dalle 14 alle 18 serie allenanti a settimana ai dorsali e lo stesso numero ai pettorali ora potresti addirittura quasi dimezzare queste serie. In questo modo avrai sicuramente più energie e più risorse da dedicare ai muscoli piccoli che ti interessano, in questo caso quelli delle braccia. Senza grossa paura però ricordati sempre che il difficile è costruire massa muscolare nuova e richiede tempo e risorse ed energie, mentre invece mantenere la massa muscolare creata è decisamente più facile. Quindi in questo periodo semplicemente le gambe o i pettorali o i dorsali non cresceranno ulteriormente ma difficilmente perderai effettiva massa muscolare. Al massimo potrai perdere del volume a livello estetico per il semplice fatto che dedichi meno lavoro e magari arrivano meno nutrienti ai muscoli, meno glicogene, di conseguenza magari momentaneamente il volume del muscolo ti sembra diminuire. Ma non è una vera e propria perdita di massa muscolare, non è catabolismo. Come devi comportarti nella specializzazione per le braccia? Aumenta ulteriormente la frequenza settimanale, passa dalle 2 ad almeno le 3 o le 4 sedute settimanali di isolamento per bicipiti e per tricipiti. Potrai fare da un minimo di 5 o 6 serie fino ad un massimo di 10 o 12 serie a seduta, sempre per il singolo muscolo. Meno di 4 serie lo stimolo rischia di essere troppo basso e più di 10 o 12 serie comincia a essere volume spazzatura, ovvero sono serie extra che si contribuiscono ad aumentare il volume totale ma il muscolo ormai sarà già troppo stanco per rispondere positivamente a questo volume extra. Avendo una frequenza settimanale così elevata possiamo utilizzare più range di ripetizioni, più carichi e più tipo di esercizi diversi. Andrò controcorrente in questo caso rispetto a quanto ho finora detto negli altri video e mi concentrerei principalmente su esercizi ai cavi e alle macchine o esercizi comunque leggeri. La spiegazione del perché è molto semplice. Nel momento in cui vado a fare 25 o 30 o addirittura 35 serie a settimanale sul tricipite rischio di mettere a serio pericolo tra virgolette il tricipite. Di conseguenza se faccio un volume alto voglio essere sicuro di fare esercizi che non infieriranno eccessivamente sulle articolazioni. Ricordiamoci che alleniamo i muscoli ma anche le articolazioni fanno parte del sistema corpo e di conseguenza dobbiamo trattarle con estremo rispetto se vogliamo evitare infiammazioni, tendiniti e cose peggiori. Possiamo anche infine ricorrere a tecniche avanzate come il blood flow restriction training, il BFR oppure ancora come drop set, rest pause, super serie e cose di questo tipo. Cicli simili dovrebbero durare un minimo di due o tre mesi magari intervallati da un mese un po' più tradizionale e poi un ulteriore blocco di specializzazione quindi magari in totale 4 o 6 mesi di specializzazione per le braccia. Sono tempistiche lunghe perché sì, i muscoli richiedono molto tempo per crescere specialmente quando siamo già ad un ottimo livello. Non aspettatevi crescite evidenti nell'arco di un mese o due. Se vi pare di crescere molto in un mese o due sicuramente non siete degli atleti di livello avanzato. Assicurati di fare un po' meno volume totale sul tricipite perché è un muscolo indubbiamente più grande del bicipite quindi il tricipite qualche serie in meno, il bicipite poi permetterò di allenare con qualche serie in più e con frequenza addirittura superiore spingendoti al massimo a 4 o 5 sedute settimanali che sì, sono veramente tante ma sì, possono essere utili per un atleta di livello molto avanzato. Mi raccomando, una varietà di esercizi, una varietà di range di ripetizioni quindi sfruttiamo sia dalle 6 alle 8 reps in un giorno, sia dalle 8 alle 12 in un altro, dalle 12 alle 15 in un altro ancora e perché no, lavoro di pump puro dalle 15 alle 20 o addirittura 25 ripetizioni in un altro giorno ancora. Avendo una frequenza così elevata possiamo realmente sfruttare l'intero range di ripetizioni perché ricordiamocelo, l'intero range di ripetizioni contribuisce ad aumentare la massa muscolare. Se vuoi approfondire queste tematiche lascerò diversi articoli utili in descrizione video. Allenatevi!